ciao dall'italia ciao dall'italia ciao da casa ui vi buon giovedì 29 giugno 2023 ciao a tutte le amiche gli amici della differita così non mi dimentico ciao a tutte le amiche e gli amici della diretta in particolare ciao a chi sta scrivendo adesso in diretta ciao a silvia ciao a george dalla toscana evviva ciao a daniel ciao quanco ciao a loro il protagonista di questa diretta è mario mario che l'altro ieri ha passato una giornata da incubo ti piace questa espressione una giornata da incubo orribile perché perché mario ha scritto su tiktok in diretta in una diretta notturna su tiktok mario senza conoscermi è entrato in diretta e ha scritto ho fatto oggi ho fatto l'esame l'esame aggiungo io di maturità l'esame di stato ma resiste forte nel linguaggio di tutti i giorni la maturità non l'esame di stato la maturità oggi ho fatto l'esame una schifezza ha detto mario una schifezza nonostante abbia avuto per cinque anni perché le scuole secondarie di secondo grado le scuole superiori superiori durano cinque anni nonostante abbia avuto per cinque anni tutti nove e mario ci dice i suoi voti la media dei suoi voti prendeva sempre nove nelle scuole superiori superiori perché continuo a dire superiore al singolare nelle scuole superiori forse perché devo chiamarle scuole secondarie di secondo grado i voti vanno vanno da zero teoricamente da zero a dieci quindi il nove è un voto eccellente nonostante ciò nonostante questi voti eccellenti per tutti e cinque gli anni tutti e cinque gli anni mario ha fatto un esame un esame orale aggiungo io dopo i tre scritti mario ha sostenuto l'esame orale e ha fatto un esame terribile ha fatto scena muta ha fatto scena muta non ha aperto bocca o quasi questo non me l'ha detto penso io in ogni caso un esame da schifo da vomito un esame schifoso ha detto lui è stata un'esperienza da incubo mario è andato nel pallone l'italia è nel pallone nel senso che pensa solo al pallone al calcio al campionato ma se qualcuno va nel pallone non capisce più niente l'emozione lo ha bloccato ha preso il sopravvento e lo ha sopraffatto praticamente insomma è andata malissimo e ha fatto scena muta o quasi per tanti minuti mario è rimasto in diretta su tiktok ed è stato inconsolabile io non volevo consolarlo ma qua parliamo dei voti del senso dei voti è un argomento che mi interessa moltissimo e coinvolgo gli insegnanti gli studenti gli ex studenti chi è genitore di una di uno studente insomma tutti qual è il senso del voto e che cosa possiamo dire a mario che con questo esame orale non bello uscirà con un voto più basso rispetto alle aspettative molto interessante anche questa costruzione questa espressione io alla fine del ciclo di studi esco verbo uscire dove va esco con un voto esco con il 110 e l'ode dall'università sono uscito o uscita con 50 su 60 sono uscita adesso nelle scuole secondarie di secondo grado il massimo è 100 quindi mario era entrato con 70 crediti dopo le tre prove scritte mario teme che il voto per l'esame orale sarà basso e quindi mario potrebbe uscire con un voto più basso rispetto alle aspettative ma qual è il senso del voto 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 non nota la nota è il rapporto disciplinare che il professore la professoressa scrive o sul diario la nota sul diario o la nota sul registro più grave se lo studente si comporta male fa qualcosa di qualcosa di qualcosa di maschile qualcosa di sbagliato qualcosa si comporta male ha un atteggiamento sbagliato nei confronti dell'insegnante dei compagni si dimentica qualcosa insomma la nota è un rapporto disciplinare è una comunicazione con le famiglie o con il dirigente con gli altri insegnanti juanjo e celsi hanno scritto che non usano questo strumento e professor juanjo in spagna professoressa celsi negli stati uniti non amano questo strumento preferiscono che le cose rimangano in classe fino a che è possibile non parliamo di note adesso però interessante anche pensare alle note che cosa a che cosa servono le note e a che cosa servono i voti voti lo vorrei dire a mario l'ho detto a mario secondo me che secondo me il voto è uno strumento non è il fine il voto è un parametro che può dire alcune cose ma è qualcosa che devi usare tu non devi usare il voto per questo da bambini no ho preso ho preso 10 allora la nonna ti dà la mancia la mancia bellissimo la mancia di 5 euro bravo e anche i genitori devono smetterla di chiedere come prima domanda che voto hai preso oggi non è quella la cosa più importante secondo me però io non ho cercato di consolare mario di dire quelle cose del tipo ma dai non è morto nessuno poi dai tra tre mesi sarà tutto dimenticato ma no no io volevo invece concentrarmi ancora adesso chissà se mario guarderà questa diretta un giorno chissà cosa diciamo che cosa diciamo a mario tristissimo per l'esame orale che è andato male è più importante il percorso questo ho detto a mario è più importante il percorso di cinque anni o il rettilineo finale il traguardo per me è più importante il percorso e io chiederei a mario lo chiedo ancora l'ho chiesto in diretta lo chiedo adesso lo chiedo a tutti gli studenti ed ex studenti non che voti hai preso ma che cosa hai imparato in questi cinque anni questa è la domanda che un genitore dovrebbe fare al figlio che cosa ha imparato oggi non si perde mai come dice armani e non solo armani però armani ce lo ricorda qua dentro non si perde mai o si vince o si impara allora che cosa ha imparato o perché qualcosa non è andato come come doveva andare come sarebbe dovuto andare oppure che cosa ha imparato nel senso che cosa ti ha comunicato l'insegnante che cosa hai portato a casa e cosa hai portato a casa oggi da scuola ma non i voti non mi interessa niente dei voti è interessante anche il voto in quanto parametro ma non è quello il fine il percorso io ho detto a mario che deve essere orgoglioso deve essere orgoglioso per per questo per l'orgoglio che a sua volta lui aveva per questi cinque anni fatti di voti alti il voto può essere alto o basso ma ancora una volta ancora una volta che cosa c'è dietro quel voto alto allora parliamo delle cose imparate perché poi io sono stufo di sentire questi ragazzi che fanno 12 anni di inglese dalle scuole elementari alla quinta delle scuole secondarie in secondo grado e poi scrivono sui curriculum inglese basso ma conoscenze scolastiche come a dire non so quasi niente e sono promossi no non va bene c'è qualcosa che non va e magari hanno preso dei voti sufficienti 7 8 in inglese sì però non lo so parlare è grazie al cavolo ma allora non è c'è qualcosa che non va ho fatto solo un esempio voti 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 mi raccomando è il voto mariclode ha scritto non ho mai dato un voto dice la maestra mariclode come non ho mai dato un voto ma perché ai miei tempi da insegnante come insegnante c'erano solo valutazioni e quindi non i voti quando ero un'alunna di 12 anni ho preso un 5 in ortografia di cui mi ricordo ancora 5 non su 10 e già sarebbe insufficiente 5 su 20 mi sono vergognata tanto ecco questa cosa della vergogna non lo dico a mariclode mariclode che è in pensione per far capire che ancora si ricorda di questo 5 che lei prese quando aveva 12 anni questa cosa della vergogna è tossica è una cosa diffusissima che fa male fa male ed è un male non bisogna vergognarsi per un voto basso non è di quello che bisogna vergognarsi ma la scuola deve essere vissuta come un momento piacevole anche di impegno e di fatica ma mai di vergogna mai che cosa c'entra la vergogna con la scuola eppure 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 ogni tanto lo so la professoressa di francese era assente c'era una giovane supplente parlava con un fortissimo accento io non capivo niente questa storia mi fa ridere ora ma non ha niente a che vedere con il senso dei voti brava l'angelica dice hai fatto bene a non cercare di consolare mario perché in una situazione così si rimane davvero male e davvero c'è questo questa sensazione di amarezza ed è giusto anche vivere dare spazio e dare tempo di vivere questa sensazione di amarezza di tristezza troppo facile dire ma no dai è importante anche questo momento di elaborazione non del lutto ma della tristezza è importante bisogna cercare di capire che cosa è successo ma sempre in maniera molto adulta come mario è non sto dicendo che mario è un bambino ma questi traumi che partono da bambini poi restano dentro e non si riesce mai a fare il salto il vero salto e quindi il voto rimane quella cosa di cui aver paura o da festeggiare quando è almeno ci vuole tempo per digerire la delusione soprattutto quando si sa di aver potuto fare molto meglio senza l'ingestibile emozione io una volta ho fatto un'esperienza altrettanto brutta ma il punto di partenza era pura gioia e convinzione avevo scritto l'esame di letteratura francese una delle mie materie preferite a quel tempo ero un fiume in piena con la finale ero un fiume in piena ho scritto come se non ci fosse un domani bellissimo le idee le parole le ho messe sul foglio magicamente ero così in flusso in flusso molto bene bello ero così in flusso che non avevo voglia di fermarmi mancava poi il tempo per controllare il mio gigantesco capolavoro scrive angelica tra virgolette alla fine sono stata bocciata per i troppi errori di distrazione sono stata bocciata quando l'ho saputo come prima reazione c'è stata l'incredulità totale sono rimasta senza parole mi è caduta la faccia per terra ci ho messo un bel po per capire l'impensabile e anche coraggio per ripetere l'esame silvia dall'argentina dice a mario direi che può succedere di sentirsi nervosi può succedere può capitare può passare no non passa questa non passa no non può capitare può succedere di sentirsi nervosi ma se lui sente che quella situazione è incapacitante per la sua vita dovrebbe cercare un aiuto professionale secondo me no perché comunque mario può vantare un un percorso davvero notevole eccellente certo l'emozione non è la stessa però mario ha saputo sostenere dei momenti di interrogazione quindi anche di emozione senza particolari difficoltà però c'è stata la maturità ma questa maturità è proprio vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere è un peccato che non si riesca però è importante anche quello che dice silvia perché questo fa parte della riflessione della riflessione doverosa c'è stato un inciampo io faccio sempre la metafora delle maratone perché quella che conoscono l'ambiente l'ambito che conosco di più qua c'è stato un inciampo sull'ultimo rettilineo e comunque non doveva succedere cioè sarebbe stato meglio che non fosse successo perché successo bisogna pensarci non bisogna dire vabbè dai la prossima volta non succederà più no pensiamoci bisogna anche mettere in preventivo la possibilità di ricorrere a un aiuto professionale però magari magari non serve la tensione la stanchezza il caldo il caldo è accessorio però certamente la tensione la stanchezza l'ansia dell'ultimo rettilineo che io conosco cioè non si capisce più niente nell'ultimo rettilineo dopo 42 chilometri allora se ci si sente in forma si vola però possono succedere davvero cose particolari nell'ultimo rettilineo o nell'ultimo infinito chilometro il rettilineo quando si arriva il rettilineo in qualche modo ma nell'ultimo l'ultimo chilometro è davvero mentalmente devastante dopo 41 chilometri già fatti è molto molto interessante continuiamo continuiamo la riflessione sui voti 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 qual è il senso del voto che cosa ci dice un voto io ai miei figli certo chiedo adesso non prendono i voti le valutazioni chiedo il voto ma non solo e non tanto è una cosa che mi interessa meno di altre Mario è già super dice George saluto anche Yoko che è arrivato adesso Chelsea dice vorrei buttare via il concetto dei voti brava Chelsea per poterci concentrare sui concetti che dobbiamo imparare ci vuole un sistema che misuri le competenze acquisite e la padronanza dei concetti in attesa di questo sistema ottimo dobbiamo dire gridare che i voti sono uno strumento a disposizione di chi prende i voti l'insegnante da i voti e lo studente prende i voti per sapere un po di più di quello che è stato fatto nel periodo precedente basta perché poi nel mondo del lavoro non ti chiederanno o magari ti chiederanno che voti hai preso con quanto sei uscito quanto con quanto sei uscito sono uscito sì però poi nel mondo del lavoro si misurano le competenze si misura ritorno all'inglese la lingua straniera che è poi quella più evidentemente immediatamente spendibile e misurabile si vuole sapere non che voti prendevi in inglese ma come sei capace di comunicare come sai usare la lingua non come sai risolvere l'esercizietto questa è la cosa purtroppo con la gamification di ogni aspetto della vita gli stessi alunni cercano spesso i punti più che la conoscenza fantastica questa cosa della gamification che non conoscevo anche nei mesi scorsi si è parlato tanto della eccessiva competizione all'interno della scuola tra alunni e alunni questo agonismo sfrenato e immotivato che porta poi anche a dei traumi psicologici e psichici per gli studenti e ci sono stati casi drammatici riconducibili all'eccessivo nervosismo per uno spirito di competizione insano e malsano all'interno della scuola a me i voti non importano più di tanto ma agli studenti importano e come forse per la pressione a cui sono sottoposti perché a casa molto bene guanco perché a casa c'è qualcuno che chiede che voto hai preso poi certo la promozione si basa sui voti certamente e se per sei mesi si prendono voti bassi beh quel voto quei voti insieme stanno raccontando qualcosa però dobbiamo spostarci dai voti lo so qua siamo tutti d'accordo ma vorrei magari vorrei qualcuno che non fosse d'accordo viva le differenze di opinioni così creiamo il confronto io vado a scuola solo per i voti per poter dire sono uscito dalle medie con sono uscito dalle superiori con sono uscito dall'università con sono uscito da sono uscito dall'università con 110 e bravo e così puoi mettere il pezzo di carta qua in italia per il pezzo di carta si fanno cose si fanno carte false in tutti i sensi si comprano anche le le lauree proprio proprio per avere il pezzo di carta una follia totale odio la maturità dice dice quanco non si può dare lo stesso valore a un singolo esame che ha un ciclo di studi di vari anni è una una lotteria la maturità bisognerebbe dare alla maturità il valore che ha né né di più né di meno è il valore che ha con i voti gli alunni dice daniel con i voti gli alunni una l2n non si sforzano e non studiano abbastanza immaginate come sarebbe senza i voti quindi tu dici che i voti sono uno stimolo sì bravo daniel che introduce un elemento di diversità uno spunto di riflessione non sto dicendo che non ci debbano essere i voti bisogna ridefinire il valore del voto o qualunque in qualunque modo tu lo voglia chiamare se poi al posto dei dei numeri ci sono i fiorellini quadri cuori le picche i fiori e il senso del del riscontro che l'insegnante dà all'alunno che deve cambiare questo è il senso che deve essere ridefinito per vivere in maniera sana e costruttiva e positiva l'esperienza scolastica che tra l'altro coincide con la fase per moltissimi più bella della vita non bisogna far entrare la vergogna come ha detto marie claude la vergogna per un brutto voto ma perché ma perché la vergogna mario mi sono agitato anche in diretta su tik tok con mario che era già triste e poi ha visto un barbone che non conosceva in diretta alle due di notte le tre di notte su tik tok e si agitava come un forsennato ma io mi volevo strappare le vesti per dire ma mario ma perché perché sei no perché sei triste no si imperativo del verbo essere tu si triste va bene però facciamo una valutazione complessiva facciamo e cerchiamo di capire perché perché è andata male come diceva silvia riflettiamo riflettiamo su questa su questo infortunio si può parlare di infortunio non solo per una lesione muscolare che accade a uno sportivo non solo un infortunio ma anche questo è un infortunio un incidente un incidente di percorso è un incidente di percorso sì però parliamo in modo tale che che non succeda più come si dice tutto ciò abbiamo detto che non si perde mai o si vince o si impara tutto ciò che non uccide migliora tutto ciò che tutto quello che quello che o tutto ciò che non uccide migliora vabbè ma al di là dei detti dei proverbi delle frasi celebri delle citazioni pensiamoci riflettiamo un po su questi voti io ne parlo spesso con i bambini io mi sono abituato perché non è stato facile anche per me a chiedere che cosa ha imparato oggi e quando la risposta è boh allora no parliamo parliamo di questa cosa non voglio neanche sapere dei voti ogni tanto riguardo adesso ci sono sul registro elettronico riguardo mi interessa di più sapere che cosa hanno portato a casa i voti non sono uno stimolo ma un traguardo o una sfida obbligatoria a chi vuole iniziare un'università purtroppo è ancora così questo è un elemento in più daniel a volte il voto alto serve per entrare in una facoltà oppure il voto alto all'università serve perché fa punteggio per un concorso oppure permette di entrare sì ma questo in rari casi il voto non deve essere vissuto come un traguardo ma come uno strumento per arrivare al traguardo che è quello di avere un posto di lavoro che piace per 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 tante cose ma il voto è un parametro è un parametro è un voto è un numero o un fiorellino o qualcosa ma che non 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 ti serve a niente per la tua vita nel lungo periodo una domanda forse non gentilissima i voti hanno ancora un legame con la realtà hai capito celsi io vedo molti 9 e 10 che non combaciano con le competenze dei ragazzi voti dati per rinforzare la stima più che altro brava celsi che introduce un elemento importante i voti sono dati da insegnanti da persone non da algoritmi sbagliano anche gli algoritmi da persone che possono esprimere prima di tutto parliamoci chiaro non in tutte le scuole si prendono gli stessi voti a parità di corso di studi di anno gli insegnanti all'interno della stessa scuola hanno diversi parametri hanno diversi metri di giudizio allora anche qua parliamone i voti sono dati da una persona che valuta secondo le proprie competenze un lavoro o un'interrogazione va bene va bene ma possiamo basarci su questa cosa per formare il nostro stato d'animo e non solo di giornata come si fa per misurare l'apprendimento senza i voti dice claudio beh ci sono ci sono molti studi in merito su su questo e chi può misurare claudio l'apprendimento senza i voti la vera misurazione la misurazione che conta è quella dello studente quindi bisogna allenare a un'autovalutazione è quella che conta ma vogliamo tenere il voto va bene ragioniamo però sul valore dei voti e questa è una cosa che coinvolge gli studenti coinvolge le famiglie eccetera 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 i voti non rappresentano la conoscenza di un alunno ma una momentanea fortuna o sfortuna su un esame potrebbe no ma non è solo fortuna e sfortuna secondo me i voti se non ci sono pregiudizi se l'insegnante competente se non ci sono errori proprio clamorosi di un insegnante rappresentano possono avvicinarsi a quella che è la preparazione di uno studente su un determinato tema in quel giorno poi però quel voto può anche risentire di un'indisposizione passeggera dello studente può essere una cosa di giornata non è un argomento facile questo è poco ma sicuro ringrazio di cuore e io lo dico sempre ma in particolare per questo argomento devo dire che la discussione continua dove nello spazio dei commenti e poi ci saranno altri video sicuramente è un tema a cui tengo molto il tema dei voti 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 e non le note poi parleremo anche delle note un caro saluto un abbraccio ciao ciao ciao